almeno so che qualcuno in giro c'è è proprio da me volare attraverso il paese dietro a una diceria ma purtroppo è la pista migliore che io anche l'aim è qui mi devo sbrigare finalmente qualcosa di diverso dalla roccia questo è un buon segno oppure no la resistenza ecco dove sono deve essere così l'aim è arrivata prima se l'aim è arrivata prima e la no qualcuno deve essere scappato saranno qui da qualche parte forse sono andata via prima che devo continuare a cercare devo raggiungere un'altura per capire dove sono non arrabbiarti abu mi sto solo sgranchando le gambe incredibile ce l'ho fatta i miei genitori impazzirebbero se mi vedessero neanche io sono tanto tranquilla impossibile la chimera l'ho trovati incredibile l'ho trovati andiamo e e e Evviva! Accidenti! Avete visto? No, non l'ha visto nessuno. E... sto parlando da sola. Oh, cavolo! Oh-oh! No! Ce l'ho fatta! La resistenza deve essere qui. Luci! E allora c'è qualcuno? Oh-oh! Ehm... Ups! Giù c'era la sala del reattore. Penso di dover salire. Accidenti! Devo essere vicina. Porca vacca! Il ponte di comando! Dove sono tutti quanti? Abbiamo dormito qui. Ma quanto tempo fa? Quei droni dell'AIM hanno fatto scappare tutti. Ehm... Ehi là? È un po'... Polveroso. No. Sono qui da qualche parte. Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh. Forse si sono nascosti negli alloggi dell'equipaggio e sono rimasti chiusi fuori. Devo riattivare la corrente. Forse c'è un interruttore o qualcosa da accendere. Ecco. Credo di poterci arrivare. Ok. Concentrate. Centro! Sì! No, 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 no! Wow! Complimenti, Kamala. Ehi là? Sembra stia cadendo tutto a pezzi qui. Che cos'è? È quello che penso che sia. Wow! Come fa a essere ancora qui? È così leggero. Avevi ragione, Kam. Il Terrigen era potente. Chi è là? Oh, no. Ma che... Aspetta! Non farmi male! Banner, sono sei lì dentro. Ti prego, svegliati subito! Ascoltami! Un attimo! Dottor Banner! Ma che... Via! Scappa! Via, via, via! Via! Dottor Banner, possiamo parlare? Sentimi serve il tuo aiuto, ok? Che fai? Cosa fai? Non ci prego, ti prego, lasciami stare! Io non volevo, io non volevo, non volevo, lo giuro! Ti prego, non uccidermi, non uccidermi, non uccidermi! Devo andarmene da qui. Grazie a tutti. 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 Premi i pulsanti, sposta le piattaforme. Capito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Non ti fermare. Non ti fermare. Ah, la leva per la centralina. Ok. E voilà! Ora quel pulsante arriva corrente e io posso andarmene. Non ti fermare. Ecco la via d'uscita. La resistenza è sparita. Hulk li avrà spaventati. devo andarmene. Devo andarmene. mi ha seguito fin qui? Mi ha seguito fin qui? Davvero impietante. non ti fermare. 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 parte! State indietro! Me ne vado da qui e questa chiavetta viene con me! Devo scendere da questa cosa! No! No! Lasciatemi andare! Questa nuova! Sono gigante! No! 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 Oh! Mantieni la calma, Kamala! Oh, merda! Kulk? Oh, no, no, no! Non ce l'ha con me! Ok, per mi sta bene. Algo又 gibt's? Algo又 gibt's? Algo又 gibt's? Oh! Mi sento un po' stordita. Non vomitare. Ehi, devi rilassarti, è tutto ok. Mi stavo solo assicurando che tu stessi bene. Non puoi prendere il sangue della gente quando ti muore. Io lo so, non lo farei in circostanze normali, ma queste non sono circostanze normali. Porca vacca. Dottor Bunner. Oh, no. L'Interstatale 9 ha 20 miglia dall'Interstatale 90. Se prendi l'Interstatale 90 c'è una fermata dell'autobus e potrai... Scusa. Di che parli? Ho trascorso molto tempo come bestione, quindi... Dottor Bunner, da quanto sei qui? A... Un paio d'anni. Sì. È incredibile. Sì. Così dicono. Allora... Per questo i bot I.M. ti hanno inseguita nel deserto? Non esattamente. Diciamo... che ho rubato qualcosa del server I.M. Ah, aspetta. Cosa? Perché? Lo so, lo so, lo so, ok? Credo che dovresti vedere tu stesso. È Tarton? Sì. Perché stai disattivando i protocolli di sicurezza? Appena... Vero. Vero! L'ho pensato anch'io. Ha chiuso Cap nella stanza del reattore e poi ha cercato di rubare la chimera. Mi sembra... esagerato. Sappiamo che il reattore aveva un malfunzionamento. È possibile che Cap gli abbia chiesto di disattivare i protocolli di sicurezza e di chiudere le porte? No, abbiamo sentito mille volte le testimonianze. Tarton e Monica erano sul ponte di comando quando è avvenuta l'esplosione. Per questo sono sopravvissuti. Ma questo prova che Tarton non era sul ponte di comando al momento dell'esplosione. Ha sempre mentito. Il resto della registrazione? Mi hanno disconnessa. Il resto del video è danneggiato. Sì. Ascolta. E se vi avessero incastrati? Ok. Tarton, l'A.I.M. Questa cosiddetta cura. Le cose non tornano. C'è qualcosa di sbagliato. Me lo sento. Tu no. E io che pensavo fossi una ladroncola venuta per rubare lo scudo di Cap. Quindi... Pensavo... Il signor Stark ci aiuterebbe. Tutto il server si basa sulla sua tecnologia. Lui può sicuramente accedervi, no? Sì. C'è una fermata dell'autobus sull'Interstatale 9. Viaggia verso est. Ti porterà ad alcuni vecchi amici che potranno aiutarti. Maria è affidabile. Dille che ti mando io e falle vedere tutte queste cose. Ma hai visto il video? Sai che qualcosa non va, no? Mi dispiace, ma non posso aiutarti. Vorrei davvero scusami. Ma tu sei il Dottor Banner. Una delle menti più geniali dei nostri tempi. Più geniali? Ma guardati. Guarda cosa abbiamo fatto. Non sai quanto sia pericoloso. Tarleton chiama quelli come me inumani. Sostiene che siamo malati. Violenti. Dei pazzi. Dice che la nostra malattia finirà per ucciderci. Io non gli credo. Cercherò da sola il signor Stark. Aspetta! Io... Ti serve un passaggio. Davvero? Dice che la nostra malattia finirà per ucciderio. Tony ha conservato qui buona parte delle sue cose quando la Stark Industries ha chiuso. Se c'è qualcuno che sa dove è Tony, quello è Jarvis. Questa pista dovrebbe portarci all'ingresso segreto dell'archivio. Forte? Beh... È una bella giornata per passeggiare. È lo spirito giusto. Hai l'auricolare che ti ho dato? Sì! È praticamente invisibile. Allora perché sei tornato alla chimera? Eh... Non l'ho fatto. Era lui. Quindi... Ha fatto scappare la resistenza? Onestamente... Non ricordo nessuno nella nave, Kamala. Il bestione si è scontrato con alcuni agenti SHIELD, ma poi... Nulla. Oh! Giusto. Allora... Giusto. Allora... Allora... Allora...